E finalmente ci siamo, sta arrivando il grande giorno, finalmente approderà nelle sale The Suicide Squad diretto da James Gunn. Probabilmente il film del 2016 non vi è piaciuto, c'è chi lo ha apprezzato, è un mio piccolo guilty pleasure, lo ammetto, e ci sta che il pubblico non l'abbia particolarmente gradito perché era un filmetto un po' così, forse uno dei migliori della DC, quindi immaginate tutti gli altri. Però ho grandi aspettative per The Suicide Squad di James Gunn, la critica lo sta praticamente adorando, le prime recensioni sono spettacolari, e alla luce di tutto questo ho intenzione di illustrarvi 5 cose che probabilmente dovreste sapere prima di approcciarvi al film, in modo tale da non avere troppe sorprese. Quindi invito tutti quanti a seguire questo video, in particolar modo quelli che non sono proprio avvezzi all'universo DC, e non hanno seguito magari la lavorazione di questo film, ma hanno tantissima voglia di vederlo. Però ragazzi, un favorino dovete farmelo, ovvero iscrivervi al canale e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati. E cominciamo subito a bomba con il primo punto che tutti voi dovreste conoscere, ovvero che il film è diretto appunto da James Gunn. La maggior parte di voi lo conosceranno come il regista dei Guardiani della Galassia, sia il primo che il secondo, e avrete notato quanto stilisticamente, soprattutto nella sceneggiatura, sia molto diverso rispetto a tutti gli altri film Marvel. Ma quello che tutti devono ricordare è che James Gunn ha cominciato con i film indipendenti, tutti quanti legati al gore, allo splatter e all'umorismo. Infatti lui ha lavorato per la Troma, una casa di produzione che si occupa di questi film estremamente indie, molto gore e davvero ironici. Fra i suoi lavori vi segnalo Tromio & Juliet, che lui ha codiretto insieme a Lloyd Kaufman, che è praticamente il re della Troma. Però se i film troppo di nicchia non vi fanno impazzire, vi consiglio di recuperare un altro suo lavoro, ovvero Slyther, il film con Nathan Fillion e Michael Rooker, che troviamo anche in The Suicide Squad. Michael Rooker è uno dei suoi attori feticio. Vi consiglio di recuperarlo assolutamente perché è divertentissimo, soprattutto per gli amanti dell'horror e del gore. E alla luce di tutto questo potete immaginare il perché sia stato scelto proprio James Gunn per dirigere The Suicide Squad e lui ha avuto totale libertà creativa all'interno di questo film. Un soggetto come The Suicide Squad aveva bisogno solo di James Gunn, per quanto mi riguarda. Ma dato che c'è James Gunn, lui ha bisogno anche del suo fido compare e fratello, ovvero Sean Gunn, che in questo film interpreta Weasel. Sicuramente tutti voi ricordate Sean Gunn per il ruolo in Guardiani della Galassia, ovvero Kragling. Ma vi ricordo che Sean Gunn era anche parte del cast di Una Mamma per Amica, il che è praticamente insospettabile. Lui era Kirk e ha accettato di lavorare a Una Mamma per Amica, a patto che lui improvvisasse tutte quante le storie raccontate all'interno di quel telefilm che io detesto profondamente. Sono felicissima che lui sia in questo film perché quest'uomo mi fa simpatia. Ho preso un po' di caffè. Sei dietro al bancone. Ho visto l'ore lei che lo faceva. Lei è la mia fidanzata. Soltanto chi dorme con te può venire dietro al bancone? Sì. Un'altra cosa che però dovete sapere riguardo questo film è che è un soft reboot. Voi direte che è un soft reboot, essenzialmente si tratta di un seguito del Suicide Squad del 2016. Prende atto anche dell'esistenza di Birds of Prey, il film con protagonista Harley Quinn, ma può essere anche visto da solo. Voi non dovete recuperare nessun film per poter comprendere le Suicide Squad. Quindi sì, fa parte dell'universo che noi abbiamo visto fino ad ora, ma non ha doppio filo. Potete tranquillamente fruirlo così com'è, senza alcun problema. Non è come la Marvel che Madagari deve recuperare 200 film per capire alcune cose, soprattutto in Endgame e Infinity War. Questo vive da solo ed è per questo che non ritroviamo Will Smith e compagnia cantante. E c'è stata anche un'altra grande sostituzione, ovvero non troviamo più Killer Croc, ma a King Shark, il quale è doppiato da Sylvester Stallone. È proprio un cast eccezionale, signori. La quarta cosa da sapere assolutamente prima di guardare The Suicide Squad è che non dovete affezionarvi troppo a tutti i personaggi, perché a detta di James Gunn, metà dei personaggi potrebbe morire nei primi minuti del film. E il che ci sta sono 200 personaggi, alcuni spiccano più di altri. Altri invece sono essenzialmente lì per fare da carne da macello, il che ci sta è perfettamente in linea con il mood di Suicide Squad e di tutto l'universo legato ad esso. Adesso infatti vi voglio spingere a fare il toto morto. Dovete scrivere qui sotto chi secondo voi sopravviverà e chi invece morirà praticamente nei primi 30-40 minuti. Non lo so, scrivetelo qui sotto. Io ho già in mente un paio di nomi. Sicuramente non faranno fuori Harley Quinn, anche perché la vediamo nella maggior parte del trailer, o magari potrebbe stupirci, magari la fa fuori subito e quelle scene che abbiamo visto nel trailer sono le uniche scene in cui ha partecipato. Sarebbe una mossa estremamente coraggiosa e in puro stile James Gunn. Ciao a tutti, ho fatto tardi, mi scappava il bisognone. Ci fa piacere. E infine parliamo di lui, di Starro, il villain inaspettato, il folle Kaiju, conosciuto come Starro il conquistatore all'interno dei fumetti. Secondo alcuni è stata una scelta un po' azzardata inserirlo all'interno del film perché poteva risultare estremamente ridicolo, ma James Gunn lo ha voluto a tutti i costi. Diciamo che il character design non si presta essenzialmente al dramma, però sono convinta che ci regalerà tantissime sorprese. In un'intervista fatta a Comic Book, James Gunn ha spiegato il perché di questa scelta. Lui voleva un grande cattivo DC, che fosse memorabile, e lui ha sempre amato Starro. Da bambino lo trovava assolutamente terrificante. E l'idea di questa stella marina gigante, con un tizio che spara queste cose, queste mini stelle marine che prendono il controllo delle persone, secondo lui è davvero terrificante ed effettivamente detta così fa un pochettino impressione. E secondo il regista la forza del villain sta proprio nel suo essere apparentemente ridicolo, ma che in realtà poi si rivela estremamente letale ed è perfetto per l'estetica del film. Starfish sarebbe la stella marina. Servirà un'esca? No. E come sempre adesso tocca a voi. Scrivete qui sotto quali sono le vostre aspettative per questo film e se lo andrete a vedere, e non vi dimenticate del nostro toto morto, chi è il personaggio che morirà, quali personaggi moriranno, perché Gunn l'ha detto. Tra l'altro ha anche ricevuto delle minacce di morte per aver detto che ucciderà praticamente metà del cast. Bene, io credo che certe volte le persone non stiano proprio tanto bene di testa. Come al solito vi lascio a questi due video, vi do un abbraccione e ci sentiamo alla prossima. Grazie. 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 Grazie.